Buongiorno e bentornati e buona domenica, sono proprio contento di rivedervi qui sul mio canale, oggi abbiamo un sacco di prodotti interessanti secondo me da poter visionare insieme e da capire se potranno poi diventare davvero dei prodotti interessanti anche da acquistare. Detto questo direi di partire con il primo pacco che in realtà è un pacchettino ma molto importante perché lo aspettavo da parecchio e sicuramente anche molti di voi saranno interessati al nuovo Moero nella versione Pro. Sì, anche Moero si adegua e aggiunge un prodotto Pro alla sua line up. Il concetto è sempre lo stesso, la filosofia è sempre la stessa, parliamo di un portafoglio compatto con portacarte in metallo, protezione RFID, levetta metallica e un sistema brevettato proprio da Moero, quindi unico. Rispetto ai vecchi modelli cosa ha in più il Moero Pro? Beh, quello che vedete, cioè la chiusura magnetica. Sostanzialmente non serve più chiuderlo con la clip, ma vi faccio vedere il modello normale così capiamo le differenze. Eccolo qua, questo è il classico Moero, vedete c'è la chiusura con il bottone automatico, quindi va fatta manualmente. Qui invece c'è una chiusura con due magneti che vanno attaccarsi al portacarte. Altra differenza è questo rivestimento in materiale vellutato del portacarte, probabilmente per agevolare la chiusura e fare in modo che non sbatta ogni volta che va a chiudersi e cambia leggermente anche la parte relativa al portafogli che qui è in pelle invece che in materiale plastico. Ma rimane la possibilità di averlo con zip, quindi per poter mettere delle monete all'interno io di solito ci metto una AirTag così posso tracciare tranquillamente il mio portafogli. Direi bella sorpresa questo Pro, mi piace un sacco anche perché alle volte quando hai una mano sola e se lì che paghi magari tieni qualcos'altro in mano, il fatto di poterlo chiudere semplicemente in maniera magnetica invece di andare a spingere il pulsantino è sicuramente una comodità aggiuntiva. Naturalmente anche in questo caso è possibile scegliere il portacarte, le colorazioni, le finiture di pelle, questa è la pelle saffiano che è praticamente indistruttibile, l'avevo vista direttamente a Napoli in laboratorio ed è una cosa particolare ma potete scegliere le finiture che volete e sappiate che anche per il Pro vale il mio codice sconto MANUEL10 che vi dà diritto a un 10% di sconto su tutti i modelli. Quindi se siete interessati all'acquisto beh vi lascio il link naturalmente qui sotto in descrizione.